Buonasera Milano. Sapete, oggi è il compleanno di Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter e oggi commentatore di Sky. Beh, Beppe Bergomi però non piace a molti interisti, perché come commentatore di Sky è tutt'altro che un commentatore interista, ma non è neanche un commentatore imparziale. Di fatto è un commentatore anti-Inter. Ecco perché neanche a me piace, non mi piace per niente. Trovo che faccia dei commenti faziosi. Addirittura nella partita con lo Spezia ho sentito dieci minuti la sua telecronaca, poi mi sono stufato perché mi dà fastidio e ho messo muto. Ho preferito guardare la partita senza volume. Sembrava un tifoso dello Spezia. Ha spiegato bene la tattica dello Spezia, si dispiaceva quando capitava qualcosa di negativo per lo Spezia, ma era evidente la cosa. Un tifoso dello Spezia praticamente. Ecco, Neschio. La solidarietà per Bergomi anche no. Tra l'altro poi a me Bergomi, sinceramente, non piace a prescindere. Mi annoiano le sue telecronache. Ma che telecronache fa? Hai visto? Hai visto che bravo Fabio? Hai visto? Si è sovrapposto? Hai visto? Ma che stile è? Ma mi fa addormentare, ma per piacere. Quindi non mi piace il suo stile, non mi piace quello che dice. Oggi è il suo compleanno, va bene, facciamogli gli auguri, però Neschio non è difendibile Bergomi. Non è che solo perché è stato capitano, ha giocato tante partite, a me non interessa niente. A me non interessa niente. Secondo me lui ha il dente avvelenato con l'Inter. Probabilmente si dice che nessuno gli abbia offerto un incarico dirigenziale o di qualsiasi tipo all'interno della società e probabilmente lui ci è rimasto male. Però per gli interisti questo non ha importanza. Per chi guarda le partite su Sky dell'Inter, e spesso sono interisti quelli che guardano le partite dell'Inter su Sky. È una seccatura il commento di Bergomi. È fazioso, è fastidioso. Quindi io non ce l'ho con Neschio, che è uno youtuber, adesso per chi non lo conoscesse, è uno youtuber che ha fatto un video di solidarietà nei confronti di Bergomi in occasione del suo compleanno, perché Bergomi non piace agli interisti, alla maggior parte degli interisti. Secondo me se non piace forse un motivo ci sarà. Quindi a parer mio fanno bene gli interisti ad avercela con Bergomi. Io spero di non vedere più telecronache col commento di Bergomi che, ripeto, non mi interessa, non mi piace, mi annoia ed è anti-interista. Ok? Basta, non ho nient'altro da dire. Non ce l'ho con Neschio, però Bergomi non ci piace. Va bene? Scrivetemi sotto se a qualche interista piace Bergomi, magari qualcuno per gratitudine. Io sinceramente no, non mi schiero con con quelli nostalgici del Bergomi giocatore. Eh no, Bergomi mi ha rotto le scatole. Un saluto a tutti.